Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento. Volevo presentarvi in questa videoguida Listengo. Listengo è un'applicazione web gratuita che serve per il bookmarking, cioè per salvare e archiviare indirizzi che rimandano a risorse che incontriamo nel web. Che cos'è il Listengo? E' free prima di tutto, è estremamente semplice come vedremo da utilizzare e lo scopo principale qual è? E' quello di salvare in modo molto immediato e rapido qualsiasi risorsa nella quale noi ci imbattiamo nel corso della nostra navigazione sul web. E di farlo, come dicevo, soprattutto in modo molto rapido, consentendoci tra l'altro di archiviare, non in un'unica lista, ma in un archivio ordinato la nostra informazione, in questo caso una risorsa, un link, in modo da poterla rapidamente ritrovare. Uno dei maggiori problemi che si incontrano accedendo al web e utilizzando il web a scopo formativo ed educativo è quello del sovraccarico dell'informazione. Ci sono troppe informazioni e non sono tutte equivalenti, attendibili, significative. E' interessante quindi poter disporre di uno strumento molto agile e rapido, come Listengo. Digitiamo Listengo in un qualsiasi motore di ricerca. Il primo risultato che ci compare è quello corretto. Vediamo che ci troviamo nella home page del sito. Dovremmo prima di tutto registrarci, clicchiamo su Sign Up e possiamo registrarci il nostro account Facebook oppure procedendo nel modo solito con username, mail e password. Io ho scelto questa seconda modalità e quindi andrò a inserire le mie credenziali. Alla sinistra della mia pagina di lavoro ho le varie liste. Questa è una lista predefinita, questa è una lista che ho creato. Ma prima di creare liste è meglio inserire un pulsante molto importante. Vado su Tools, Strumenti e inserisco questo pulsante. In che modo? Semplicemente cliccando e trascinandolo qui. Quando nel corso della mia navigazione capiterò su una pagina interessante, per esempio Prima Guerra Mondiale, sarà sufficiente che io clicchi su questo pulsante per salvarla. C'è la possibilità di scegliere la lista nella quale salvare questo link. Non c'è la lista che io desidero e quindi la creo al momento. Storia contemporanea. Ecco fatto. A questo punto io non solo ho salvato, ma ho salvato, aggiorniamo, creando una nuova lista in modo da ritrovare poi facilmente il link. Proviamo a ripetere adesso con questa lezione di scuola interattiva sulla Prima Guerra Mondiale quanto abbiamo fatto, se vi tu li stango. In questo caso, vedete, troviamo la lista già pronta. È rapidissimo, è molto semplice. Possiamo creare le liste anche dalla nostra pagina. Cliccando sul pulsante aggiungi una lista, potremo dare un nome alla lista, per esempio storia, poniamo, antica. Possiamo dare una descrizione della nostra lista per ricordarci quali risorse, quali link abbiamo. E anche possiamo decidere se questa lista deve essere contenuta in altre. per esempio direi di no, a meno che non crei, quindi nessuna, deve essere una lista autonoma, a meno che io non crei una lista storia all'interno della quale mettere storia antica. Storia contemporanea è storia moderna. Quindi proviamo questa possibilità. Creo una lista che chiamo storia. Lasciamo perdere adesso la descrizione. Deve essere una lista originaria. Ecco, adesso posso inserire, per esempio, storia antica. Clicco su storia antica. Questo pulsante mi permette di disporre di alcune opzioni, per esempio, di editare la lista. Quindi, storia antica, a questo punto io qui scriverò che deve essere inclusa in storia. Controlliamo, vedete, storia antica a questo punto è inclusa in storia. Si riconosce da questo segno di spunta. Bene, posso utilizzare, e li stengo sia da tablet che da pc desktop che da smartphone. Posso, inoltre, cliccando su questo tasto, selezionando la lista che mi interessa e cliccando sul menu, condividere con chi voglio, via Facebook, via Twitter o anche via mail. Posso anche rendere la lista privata. Se non mi interessa condividerla, se non voglio che nessuno possa accedere alla mia lista, posso renderla privata. Chi avesse i propri segnalibro preferiti o bookmarks, che dir si voglia, sul browser, per esempio su Chrome, può importarli. Andando su Tools, Strumenti, si ha la possibilità di importare i propri bookmark da Google Chrome, da Internet Explorer, Firefox e così via. Oppure di esportarli per poterli poi magari importare in qualche altro tool, applicazione o browser. Bene, torniamo alla nostra pagina pubblica, che è questa, quella che vedranno le altre persone. Bene, spero che vi possa essere utile questa applicazione. Vi ringrazio e vi saluto.